Davide Ballestriego, esorgio super positivo per la Feralpi Salò, le tue sensazioni dopo questa partita? Buone, buone perché era una partita che tenevamo a giocare in un certo modo, perché venendo a due settimane di un bel lavoro, ovviamente non possiamo essere brillanti, però volevamo partire col piede giusto per creare già una mentalità vincente, siamo riusciti a fare una bella prestazione contro una squadra forte, che sicuramente conosciamo tutti dai, quindi niente, siamo contenti perché ci regaliamo anche una bella trasferta settimana prossima che vogliamo affrontare nel New York Day Mod.